È stato chiesto e progettato di esporre su tutti i negozi della città una locandina che porterà i disagi che questi nuovi processi ZTL stanno comportando. Non nascondo che potremo arrivare anche ad una manifestazione sotto Cassugana. Commercianti pronti a manifestare sotto il municipio contro la pedonalizzazione. In 150 la nuova riunione indetta dall'associazione Rivivere Treviso che continua a chiedere al comune la sospensione delle nuove zone a traffico limitato prima di chiudere la città va rilanciata dal punto di vista della proposta turistica e dotata di un parcheggio multipiano all'interno delle mura. Una posizione su cui il dialogo si è arenato e i toni sono andati ben sopra le righe. Noi ad oggi non vogliamo assolutamente più scendere a chiacchiricci di strada o a stoccato o ad accuse personali. vogliamo arrivare ad un dunque, ad un fatto. Cerchiamo ancora la concertazione assolutamente, basta che questa ci venga concessa e per questo veramente chiedo il rispetto per il dissenso motivato che noi portiamo avanti. L'associazione vuole proseguire le trattative col comune ma partendo, dice il presidente, dai risultati che la chiusura di Via Campana e Piazza San Vito hanno già prodotto. C'è la certezza di un negozio che San Vito chiuderà la settimana prossima, uno certo con due dipendenti e uno in procinto, per cui sono segnali forti che a noi danno assoluta preoccupazione. Quanto ai varchi elettronici, i commercianti sono contrari. No ai varchi elettronici perché noi li riteniamo assolutamente un deterrente a quello che è il fruitore esterno della città. Disposto a continuare a mediare il sindaco Manildo, determinato però a portare a casa il progetto pedonalizzazione. Questo cambiamento che stiamo cercando di fare tutti insieme lo sapevamo che non è una cosa facile, quindi è giusto che ci siano anche dei momenti di confronto e che magari si debba ritornare a ridire le stesse cose due o tre volte. L'importante è però avere degli spazi di confronto veri in cui si guardano con onnestà intellettuale le cose, non si cercano dei capri ispiatori, ma si guarda a cercare di risolvere dei problemi concreti e non si mantengono le paure in astratto.